Viale Marconi deve essere riportata allo splendore di una volta, semplificando la viabilità e soprattutto ascoltando le problematiche dei tanti commercianti. Così il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che affronta anche il problema del taglio indiscriminato degli alberi in città. Cominciamo da Viale Marconi. Che io definisco il vero fiasco di questa amministrazione comunale, che con un'opera politicamente scellerata e devastante ha distrutto un'arteria che una volta era un fiore all'occhiello della nostra città, penso al commercio. Questa è un'arteria che è diventata con la nuova progettazione pericolosissima, mancano i parcheggi, l'economia, i commercianti stanno letteralmente morendo. Tanti di loro hanno dovuto chiudere, tanti altri chiuderanno. Quindi io chiedo all'amministrazione comunale un atto in autotutela che vada a ripristinare parzialmente tutto ciò che si può ripristinare per semplificare la viabilità e soprattutto riportare, riconsegnare ai cittadini i parcheggi adeguati. Bisognerebbe tornare, per così dire, ad origine. Si potrebbe tornare all'origine con piccoli accorgimenti di sicurezza stradale, ma piccoli accorgimenti, non stravolgimenti come ci sono stati. Per attrarre qualche finanziamento europeo non bisogna stravolgere una strada rendendola pericolosa. A volte si può anche rinunciare a qualche finanziamento, ma mantenere una viabilità sana, ecco questo non è stato fatto a Pescara. E poi il taglio indiscriminato di alberi in buono stato di salute va bloccato. Andrebbe anche sanzionato per Pettinari, che aggiunge, manca un piano regolatore urbano del verde. Hanno iniziato a tagliare alberi sulla strada parco per continuare su Corso Vittoglio, continuare su Viale Primovere e Via Pepe. Manca un piano regolatore urbano del verde. Non c'è stata nessuna condivisione con le associazioni ambientaliste, i comitati, che io oggi voglio ringraziare per un'opera egregia che stanno facendo. Si stanno quasi sostituendo all'amministrazione comunale, agli enti locali. Si stanno facendo Stato per fare quello che lo Stato non fa. Possiamo dire che questa amministrazione comunale è da bocciare, dobbiamo mandare a casa immediatamente questa amministrazione comunale perché Pescara ha bisogno davvero di un sindaco che ami davvero questa città, che voglia bene la città di Pescara per una città pulita, bella, attraente e soprattutto accogliente.